Buongiorno Buongiorno No No Ma che è? Tutti quanti? Ci sono tre croce o quattro Ah questa quella la Questa è la croce Eh ma è impossibile ci lo No no vieni qua O giù vieni a vedere se ne prendi la video Guarda qua Ma me l'hai già parata Guarda qua se mi stai sbarata ancora Guarda qua Guarda qua la spaccatura sotto questo buco Ma tu sei pazzo La coppia se voglio io sono percorso in mezzo No per carità Ah ma fai la prof No non mi arrivo a nulla e ti faccio dire la Guarda qua questa roccia c'è stata la piozza Che ti sa Che è raffinata la croccia Ora la coppia da sotto è normale Ma tu c'è stato male? Eh? Non mi ricordo perché è una croccia Non è proprio Una casa Eh però Non è buono Non è buono Però non è buono Però non è buono 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 Grazie a tutti.